L'interno è molto soddisfatto per questo Il nostro obiettivo era conquistare il primo posto, arrivare in primo per andare in fase finale Però oggi siamo riusciti a fare molto bene e poi sono riuscito anche a fare gol Quindi sono molto contento di quello che ho fatto oggi Rapaic da solo contro il portiere, Rapaic, tocco delicato, desterno destro e al diciannovesimo del secondo tempo l'Inter rimette la testa avanti Sono molto contento per quello gol, l'ho fatto contro Perugia, però meno male E sì, per te è importante, noi ti ricordiamo, il papà ha giocato nel Perugia Quindi insomma, adesso lo chiami, gli dici, guarda che ho fatto gol al Perugia E lui l'ha visto, era qua Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo sfruttare meglio nella prima mezz'ora qualche situazione Magari andare su 2-0 Poi abbiamo trovato una squadra organizzata che gioca bene Che ha anche qualche buona individualità e poi è normale col caldo Con qualche ragazzo che aveva giocato poco con i crampi Quindi è stata anche oggi una partita così, un po' sofferta Però bravi i ragazzi poi alla fine a portarla a casa E adesso niente, ci concentriamo sulla fase finale Stagione è importante per tutti noi, siamo iniziati un po' male Però dopo siamo, come si dice, cresciuti Cresciuti, sì Adesso siamo primi, aspettiamo un playoff, speriamo che vinciamo anche questo Facciamo tutto il possibile per preparare per arrivare nel punto in cui Dobbiamo avere la forza per vincere tutte le tre partite che abbiamo